Musica Operatività dell'ospedale di Chieti Ci sono i presupposti per il DEA di secondo livello Nuova rotatoria ad Avezzano Nord È caratterizzata da elementi emblematici del territorio Irrigazione nel comprensorio Fucenze Le decisioni del sindaco di Cerano Settimio Santilli Circuito per auto d'epoca Domani la presentazione nella sede comunale di Avezzano Un cordiale saluto dagli studi Antenna 2 Turismo in apertura del nostro giornale Quasi una rivoluzione copernicana Nella strategia con cui promuovere il turismo nel nostro paese Così ha definito il piano strategico per il turismo 2017-2022 Il coordinatore della Commissione Turismo Della conferenza delle regioni e delle province autonome Giovanni Lolli A margine dell'evento di presentazione Italia, paese per i viaggiatori Che si è tenuto oggi a Roma Secondo quanto riferito dallo stesso Giovanni Lolli Di ritorno dalla conferenza Per troppo tempo in Italia Ci siamo cullati Affidandoci esclusivamente Al valore immenso del nostro patrimonio Artistico e culturale Conosciuto in tutto il mondo E non abbiamo costruito una politica di promozione adeguata Mettendo a fianco del prodotto che avevamo a disposizione Una rete adeguata di servizi ed infrastrutture Secondo il Vice Presidente Abruzzese Il piano strategico del turismo Crea una radicale discontinuità Con questo atteggiamento del passato Si inaugura una stagione In cui tutti i protagonisti insieme Decidono di rivitalizzare il settore Dando una strategia Al sistema turistico italiano Lo ha fatto lo Stato Coinvolgendo tutti i ministeri interessati Già che il turismo Non può essere confinato Nell'ambito di un solo settore Ma evidentemente coinvolge Ed impegna trasversalmente Diversi decasteri E lo hanno fatto le regioni Che hanno in questa materia Competenze fondamentali Affidate loro dalla Costituzione Che intendono esercitare In squadra con lo Stato E con la rete dei comuni In una ottica più stringente E più condivisa Secondo il coordinatore Della Commissione del Turismo Il piano può essere considerato Il frutto dell'apporto Di tutti i protagonisti In primo luogo Degli operatori del settore Dei privati E di coloro che organizzano Sul territorio L'offerta turistica E che hanno scelto Di muoversi All'altezza della situazione Ed in modo più ordinato Quindi E' proprio il metodo Con cui si è costruito Questo piano La vera regione Del suo successo Nell'ambito dei servizi Finalizzati a contrastare Ogni forma di illegalità Nella giornata di ieri Il personale della squadra volante Del commissariato di pubblica Sicurezza di Avezzano Ha rintracciato Due cittadine cubane Le stesse Non essendo in possesso Di alcun titolo Per soggiornare Nel territorio nazionale E non avendo Adotto motivi Ostativi all'espulsione Sono state accompagnate Presso il CPR Di Roma Ponte Galleria In attesa Di essere espulse Dall'Italia Con il primo volo utile Diretto a Cuba Con l'intento Di ricordare Gli amici E i colleghi Scomparsi Nelle tragiche Incidente Di Campo Felice Del 24 gennaio scorso Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico Abruzzo Ha organizzato Per il giorno 24 giugno prossimo A partire Dalle ore 10 Una cerimoria Commemorativa In località Campo Felice Ai piedi Del pendio Teatro Dell'incidente Con l'elicottera Sarà celebrata Una santa messa Di suffragio Insieme alla Possibilità Di effettuare Una passeggiata Fino alla sorgente Dove è stato realizzato Un fontanile Dedicato All'intero equipaggio I parenti Gli amici E la cittadinanza Tutta Sono invitati A partecipare Lo scorso 29 maggio Il posto Polfer di Sulmona E' stato chiuso A seguito Di una riorganizzazione Tendente A riorganizzare E razionalizzare Le risorse In determinate province La questura Dell'Aquila Rende noto Che in questo contesto Le attività Di vigilanza E controllo Alla stazione Di Sulmona E su alcuni treni Che interessano Quella località Vengono già svolti Dalla sottostazione Polfer di Pescara In raccordo Con il commissariato Di pubblica sicurezza Di Sulmona Verranno effettuati Servizi di vigilanza Presso quello scalo Anche in fasce Orarie Prima non coperte A causa Dell'esiguo numero Di operatori effettivi Presso il presidio Polfer sulmonese L'ospedale Santissima Annunziata Di Chieti Ha tutti i requisiti E presupposti Per istituire L'idea Di secondo livello Rimane imprescindibile E strategico Il ruolo Che riveste La facoltà Di medicina Nello sviluppo Proprio Del nosocomio Teatino È necessario Ed urgente Che l'ASRA Assuma Iniziative Per mettere In sicurezza I corpi C ed F Del policlinico Oltre che La funzionalità Del centro operativo Del 118 Che già opera A Chieti E la sua professionalità Riconosciuta A livello regionale Questi gli argomenti Che ha visto L'unanimità Del consiglio comunale E straordinario Di Chieti Trovando una Visione comune Da parte di tutte Le forze politiche Rappresentate In assise A sottolinearlo È il consigliere Regionale Di Forza Italia Mauro Febbo All'indomani Del consiglio Straordinario Tenutosi Nella giornata Di ieri Chiamato Ad esprimersi Sul futuro Del policlinico E sul Project Financing Bisogna evidenziare Continua Febbo Come in maniera Lineare Ed unanime Si è emerso Da parte Di tutti i consiglieri Comunali La centralità Dell'ospedale Con una visione Concorde Proprio Sul suo futuro Quindi Nessuna Divisione Sul suo avvenire E sulla propria Centralità Dell'ospedale Tant'è che I tre ordini Del giorno Su cinque punti Ben quattro Sono identici E condivisibili Da tutti i gruppi Consigliari Un'unica divergenza Continua Febbo Emersa durante il consiglio Rimane proprio La posizione Del centro-sinistra Di intervenire Sulle palazzine Con rischio Sismico Attraverso Un progetto Realizzato E finalizzato Alla realizzazione Di un nuovo Ospedale Sulla Cui fattibilità Economica Sono emersi In questi ultimi mesi Tantissimi dubbi E perplessità Anche procedurali Sarà inaugurata Nei prossimi giorni Ad Avezzano La lottatoria Nei pressi Dell'ingresso Dell'autostrada Nella zona Della Pineta All'incrocio Tra via Palanza Via Di Vittorio Via Fucci Via Marianella L'opera Oltre a concorrere Efficacemente Alla gestione Del traffico Della zona nord Inclusi i flussi Relativi All'ospedale civile Rappresenterà Per la città Una prestigiosa Porta d'ingresso Caratterizzata Da elementi emblematici Del territorio Sulla struttura Sono state installate Un'antenna parabolica In disuso Ceduta a prezzo simbolico Dal centro spaziale Fanti Al comune di Avezzano Tre mezzi agricoli E la scritta Nec sinemarsis Nec contra marsos Sicché la rotatoria Offrirà Ai visitatori In transito Un colpo d'occhio Straordinario Sulla storia E sul futuro Del territorio Nell'infrastruttura Sono riassunti Tratti significativi Dell'entità marsicana Dalle battaglie Condotte dai marsi Ad orto d'Italia Con l'agricoltura Come fonte primaria Di benessere economico E sviluppo Ma anche Fucina di futuro Nel campo Delle telecomunicazioni Il 30 aprile 1986 Infatti Il segnale Che avrebbe collegato L'Italia A quella che sarebbe Divenuta La rete globale Partì dalla sede Del centro universitario Per il calcolo elettronico E raggiunse Telespazio Da dove fu inviato Al Comsat In Pennsylvania Oggi il centro spaziale Ha in cassa Un contratto Per oltre 1 miliardo Di euro Per oltre 10 anni Di lavoro E gestirà Attraverso il progetto Galileo 27 satelliti europei Con la realizzazione Della rotonda Che ha un diametro Di circa 12 metri Ed è ricoperta Da erba sintetica E' stata disposta La sistemazione Dell'area Attigua Inclusi Marciapiedi E pubblica Illuminazione Come aveva dichiarato Nei giorni scorsi Il sindaco di Celano Settimo Santilli Si era detto Sì favorevole Alla comunicazione Del consorcio Di bonifica Per quanto concerne La sospensione Dell'errigazione Dei campi agricoli Del comprensorio In Fucenze Ma Non Nei tempi Lo stesso sindaco Ha emanato Due distinte ordinanze Per fronteggiare L'emergenza idrica Con le quali Si regolamenta Da un lato L'uso di acqua potabile Ad uso domestico E dall'altro Si sorprende E si sospende appunto L'irrigazione Nei terreni agricoli Ricadenti Nel territorio comunale Per il prossimo Fine settimana In questa maniera Gli agricoltori Avranno il tempo Per organizzare Le proprie attività Lavorative E non Arrecare danni Ai loro prodotti agricoli Nell'ordenanza Del sindaco Santilli Viene specificato Che il divieto Decorre dalle ore 8 di sabato 24 giugno Fino all'ero 8 di lunedì 27-26 giugno E ciò per ogni Ulteriore fine Settimana successivo Con i medesimi Orali Fino a nuove Disposizioni Fin da subito Spiega Il sindaco Santilli Abbiamo condiviso La richiesta Da parte Del consorzio Di bonifica Che al fine Di prevenire Lo stato Di emergenza Invitava i sindaci Dei comuni A prevedere I fermi totali Dell'irrigazione Dell'intero Comprensorio Fuciense In completa Sintonia E concertazione Con l'assessore Comunale Alle politiche Agricola E Domenico Fidanza Tuttavia Si è ritenuto Di procrastinare L'ordinanza Di una settimana Soprattutto Per offrire Una maggiore E migliore Informazione Agli agricoltori Che proprio In questo periodo Sono impegnati Nei lavori Di semina E piantumazione Dei prodotti Agricoli L'intento È quello Di permettere Agli agricoltori Di programmare Per tempo Le proprie Attività Aziendali Pur in presenza Di disposizioni Che potrebbero Rallentare Le loro Attività Lavorative La richiesta Avanzata A sindaci Da parte Del consorzio Di bonifica È motivata Dal fatto Che le falde Aquifere Sia di superficie Che profonde A causa Delle inefficaci Precipitazioni Verificate Nell'ultimo Biegno Risultano Notualmente Al di sotto Delle medie Stagionali E di quelle Relative Negli ultimi 15 anni Da qui Nasce L'urgente Necessità Di adottare L'ordinanza Da parte Del sindaco Santilli Al fine Di prevenire Lo stato Di emergenza Problemi Di carattere Mentale Igenico Sanitario E di ordine Pubblico Domani Mercoledì 21 giugno Alle ore 12 Nella sala Consigliare Del Cuglio Avezzano Si terrà La conferenza Stampa di presentazione Del circuito Di Avezzano Organizzato Dal Jaguar Drive Club Italia Con il patrocino Del ministero Di beni ambientali La presidenza Del consiglio regionale E del comune Di Avezzano All'incontro All'incontro A Palazzo Di città Dove saranno Illustrati Tutti i dettagli Della quinta edizione Della manifestazione Di motorismo Storico Istituzionalizzata Dall'amministrazione Comunale Di Avezzano Parteciperanno Il sindaco Giovanni Di Pangrazio Il presidente Del Jaguar Club Italia Felice Graziani L'assessore All'asporto Fabrizio Matili Il rappresentante Del comitato Organizzatore Marco Natale Le scelte fatte Nell'emergenza E nella ricostruzione Del cratere Sismico Abruzzese Del 2009 Come chiave Di svolta Per comprendere Che cosa Dovrà essere fatto Nel nuovo cratere Del centro Italia Colpito Dai terremoti Dell'agosto E ottobre 2016 E gennaio 2017 Questo Uno dei temi Affrontati Durante la prima edizione Di Milano Arc L'agermes Di sette giorni Che ha visto La partecipazione Di grandi architetti Ed urbanisti Protagonisti Della scena internazionale Chiamati A misurarsi Sui principali temi Delle città contemporanee Della riqualificazione Delle periferie Del rapporto Tra architettura E natura Della grande sfida Della ricostruzione Del centro Italia In rappresentanza Dell'Abruzzo L'architetto Aquilano Sandro Annibali Presidente Della federazione Architetti D'Abruzzo E Molise Ed il consigliere Dell'Ordine Dell'Aquila Una presenza Non casuale In quanto L'ideatore Promotore Di Milano Arc E' L'architetto Stefano Boeri Famoso Famoso Difficile Da definire Nell'Aquilano Programmati L'Aquila Colli Elettriche Ai limiti Politiche Militari E' E' stata ritenuta Necessaria L'adozione Di un provvedimento Di divieto Di sorvolo Dell'area Interessata Alla cerimonia Durante Lo svolgimento Della stessa L'ordinanza E' stato Evitato Dalle ore 8.30 All'14.30 Del 21 giugno Nello spazio aereo Della provincia Dell'Aquila Il volo Di porto O sportivo Di apparecchi Nonché Di mezzi aerei A pilotaggio Remoto Il buon fine E' il progetto Contro lo spreco Alimentare Di Coop Centro Italia Che prevede Il recupero Dei prodotti Di prossima scadenza O non più Vendibili Ma perfettamente Commestibili Soci E lavoratori Si impegnano Da anni Su questo Ed altri temi Sensibili Come l'ambiente Il contrasto Alla violenza Contro le donne In collaborazione Con le diverse realtà Attive nel sociale E nel territorio Aquilano La scena La scena Del buon fine Ci sarà Mercoledì 21 Alle 20 all'Aquila Presso Piazza Darmi L'intero incasso Della serata Alletata Dalla musica Di Forcavacca Sarà devoluto Alla comunità 24 luglio Per l'acquisto Di attrezzatura Per lo stoccaggio Dei prodotti Del buon fine Per partecipare È necessario Acquistare biglietti In prevendita Offerta minima 15 euro Presso i punti vendita Coop di Scopito L'Aquila Torrione E Bazzano In caso di maltempo La scena Sarà rinviata Quarta gradutoria Per il bando Garanzia Over Che prevede Contributi A fondo perduto Per le aziende Che assumono Personale A tempo Indeterminato Sui siti Istituzionali Regione.abruzzo.it E abruzzolavoro.eu È stato pubblicato L'elenco Delle aziende A messa a finanziamento Che hanno presentato La candidatura Per l'assunzione Di personale Dal 2 Al 31 Gennaio 2017 Al pari Delle precedenti Pubblicazioni Anche questo elenco Prevede La suddivisione Tra richieste Di assunzione Ricadenti Nei comuni Compresi In aree di crisi Ed aree interna Linea 1 E nei rimanenti Comuni Della ragione Linea 2 In totale Questa quarta gradatoria Finanzia 65 assunzioni A tempo Indeterminato Per un impegno Di spesa Superiore A 600.000 euro Sui siti Istituzionali È stato pubblicato Anche l'elenco Delle aziende Le cui domande Sono state Escluse È bene ricordare Che Garanzia Over Non è un bando Che ha scadenza E dunque Le aziende Stromesse Possono nuovamente Presentare La domanda Di assunzione Di personali Eliminando O sanando Naturalmente I vizi Che ne hanno Sancito L'esclusione L'amministrazione Comunale Di Celano Comunica Che per l'anno Scolastico 2017-2018 Tutti gli studenti Tutti gli studenti Delle scuole Di ogni ordine Grado Riceveranno Gratuitamente Il diario Scolastico L'assessore All'istruzione Eliana Morgante Precisa che L'iniziativa Rientra In un più ampio Programma Di educazione Ambientale Che sarà Realizzato Negli istituti Scolastici D'intesa Con una Azienda Di cuneo Da anni Impegnata In progetti Di grande Impatto Sul territorio Il cibo E l'educazione All'alimentazione I diari Saranno Personalizzati E costituiranno Anche una Sorte di Agenda Che illustrerà Ai genitori Tutta l'offerta Formativa E le notizie Relative Al finanziamento E dal funzionamento Amministrativo Delle scuole Le famiglie Risparmieranno Inoltre Sull'acquisto Del libretto Di giustificazioni Che sarà Parte integrante Del diario In dotazione 50 ore Di formazione E aggiornamento Su previdenza Malattie professionali Infortuni E pubblico O impiego Per crescere In ene Con le esigenze Della società Che cambia Si è concluso A San Giovanni Teatino Il ciclo Di sette incontri Intitolato Programiamo il futuro Promosso Dalle PACA Con l'obiettivo Di aggiornare Il proprio Staffo Di collaboratori E riflettere Sull'origine E l'evoluzione Del patronato Di Coldiretti Ma soprattutto Proporre Nuovi percorsi Per affrontare Le sfide Che attendono Il mercato sociale Nei prossimi anni Nel corso Dei incontri Che si sono svolti Nella sede Di Coldiretti Abruzzo Coinvolgendo Operatori di Abruzzo E molise E tra i relatori Funzionali Della direzione Della direzione Coldiretti Centro antiviolenza Un'evoluzione Un'evoluzione Per donne Vittime di violenza Ad indirizzo protetto La casa Delle donne Prima struttura La domanda A mano Presso la sede Legale Della Horizon Service In via Pola 64G Assumor Oppure inviarla Via Pecco O via Raccomandata Dicevuta Di ritorno Bene Prima dei saluti Vi ricordiamo Che questa edizione Del telegiornale La potete rivedere Integralmente Sul nostro sito Internet www.antenna2tv.it O sulla nostra pagina Facebook Antenna2 Avezzano Dove sarà possibile Rivedere anche I vecchi servizi Che Antenna2 Ha realizzato Nel corso Degli ultimi anni Ora vi lasciamo Alle previsioni del tempo E vi diamo appuntamento Alla prossima edizione Del telegiornale Salve e ben ritrovati All'aggiornamento Meteo Di Antenna2 Che tempo farà Nei prossimi giorni Lo vediamo Dall'immagine satellitare Nella giornata Di mercoledì Avremo Il rinforzo Sempre più evidente Sulle regioni Del centro-sud Dell'anticiclone Nord-africano Un'aria di alta pressione Presente in quota Un promontorio in quota Di matrice sub-tropicale Che richiamerà Masse d'aria calda Provenienti dal Nord-Africa Essendo un anticiclone Di natura termica Queste masse d'aria calda Ruoteranno in senso Orario Intorno a una depressione Presente al suolo Causando un rialzo termico Delle temperature massime Sempre più significativo Che diverrà Importante Anche dal punto di vista Delle temperature minime Nei prossimi giorni E quindi farà Un po' caldo Dappertutto Decisamente caldo Direi Vediamo Vediamo la nostra regione Abruzzo Che tempo farà Nella giornata di mercoledì Vedete I numerosi Simboli Di bel tempo Salvo La formazione Di nubi Cumuliformi A ridosso Dei rilievi Temperature massime In deciso Rialzo Minime In lieve Diminuzione O stazionarie Per quanto Concerne I valori UV Invece Saranno compresi Tra i 7 E gli 8 Lungo la costa Ove raggiungeranno Quasi Il loro massimo Apice Grazie per la cortesia Attenzione Grazie per la corte